Torraca ha vanto un patentino di correttezza amministrativa. Con queste parole il sindaco della cittadina Daniele Finizzola si difende dai avvisi di garanzie e dalle accuse piovute gli addosso nei giorni scorsi circa l'affidamento dei lavori di taglio del bosco Mangosa di proprietà comunale alla sviluppo Torraca. Due punti principali dell'indagine della procura di Sara Consilina, la mancanza dei requisiti di legge per l'assegnazione alla sviluppo Torraca del taglio dei lotti e il fatto che le persone chiamate ad effettuare i lavori fossero parenti o vicini al sindaco. Daniele Finizzola risponde al primo punto spiegando che per ben due volte la gara era andata deserta prima di decidere di affidare il taglio del bosco ad una società in house, cioè una società totale capitale pubblico gestita dal comune con il parere positivo della regione Campania, tutto quindi secondo le regole. Al secondo argomento replica che non c'è stato nessun rapporto di parentela diretta con i lavoratori, assunti regolarmente con un avviso pubblico e dopo regolare selezione della sviluppo Torraca. Insomma, il sindaco si dichiara fiducioso dell'esito dell'indagine che ha investito lui e tutti i componenti del Consiglio Comunale più i tecnici degli uffici municipali. In dieci anni, dice, siamo stati interessati da ben 36 ricorsi, tutti finiti nell'archiviazione a simbolo della correttezza amministrativa del nostro mandato. Grazie.